we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oramai ci siamo abbiamo già visto delle novità interessantissime riguardanti la patch 9.20 quella che vedrà l'arrivo di tante tante news riguardanti ovviamente l'evento di picco polare già qualcosa però in game ci è stato un po anticipato e quindi parleremo proprio di domina la tempesta questo nuovo oggetto che dovrebbe essere indicativamente una granata o comunque un oggetto lanciabile che ragazzi avrà delle particolarità davvero uniche ma non è finito perché parleremo anche dello starter pack finalmente abbiamo la data di uscita e preparate mano al portafogli ragazzi perché ci siamo davvero anche per questa season e come vedete ultimo titolo tfew incazzato è successo di nuovo ragazzi non può stare lontano dalle incazzature tfew perché c'ha ragione o mi fai bordelli o mi si incazza ragazzi è successo qualcosa di inaccettabile nella settimana numero 8 delle world cup e vi farò vedere degli spezzoni ovviamente di gameplay prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xiu derone per scioppazzare prepotentemente nello shop grazie di cuore ragazzi per sostenere il canale mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di 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 attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina ve la devo fare ragazzi la domandina ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e anche ieri mi avete risposto in una moltitudine ragazzi domandina proprio un po' nostalgica ma quale arma vorresti che tornasse in gioco non necessariamente tra queste quattro tra le armi che hanno messo in magazzino qua ce ne sono alcune che hanno fatto la storia di fortnite tu quale rivorresti in gioco se potessi scegliere ragazzi se io potessi scegliere rivorrei assolutamente il bolt action toglietemi questa cacata di bolt action silenziato perché non mi piace rimettetemi il bolt action normale togliete quell'altra porcheria di semi automatico ve ne prego ditemi la vostra ovviamente qua sotto se riusciamo a cliccare il tasto nei commenti ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere ragazzi il nuovo starter pack wild sappiamo già il nome lo vediamo qua vi posso dire ragazzi che in alcuni paesi del mondo lo starter pack è già disponibile quindi probabilmente entro le prime ore di questo pomeriggio alla peggio indicativamente alle 18 dovrebbe essere disponibile anche per noi in italia ragazzi come vi ricordo lo starter pack comprende la skin che è veramente molto molto bella il backpack e come al solito 600 v bucks tutto al modico prezzo di 4 euro e 99 vi consiglio sempre di prendere lo starter pack perché ragazzi 600 v bucks fanno sempre e comunque comodo quindi prepariamoci ad averlo anche per questa season ma andiamo avanti e parliamo ragazzi voglio farvi vedere una cosa interessantissima ve la ricordate questa immagine questa ve l'ho proposta ieri spiegandovi la teoria della corrente che dovrebbe essere interrotta e quindi creare l'evento dell'end season per portarci ovviamente alla stagione 10 dove alcuni iniziano già a dire che potrebbe essere il blackout il tema principale voglio farvi vedere un video questo ragazzi è preso direttamente dal gioco quindi come sapete questo è il il punto di attacco a neo inclinata dei cavi che partono da sponde del saccheggio guardate bene ragazzi come sempre vi ricordo c'è anche il il livello 78 del pass battaglia che ci fa vedere lo standard power surge che dice fa parte del suite up set quindi probabilmente un'interruzione di corrente ma se noi andiamo a guardare più da vicino questi cavi ragazzi guardate che storia vedete che il cavo sopra si muove sembra quasi che stia pompando la corrente ragazzi e se andiamo ancora più da vicino a guardare noterete proprio l'immagine che guardate vedete ragazzi quel colore lì sotto è la matassa di cavi che vi ho fatto vedere nell'immagine quindi molto probabilmente partirà proprio da qua da questa immagine il tranciamento dei cavi che potrebbe dare chissà che cosa chissà quale effetto a neo inclinato se ne avete modo andato a dargli un'occhiata con il replay perché è davvero molto molto divertente da guardare ma andiamo avanti eccolo qua che c'è già la faccia incazzata e sorridi un pochettino ragazzi è successo un casino alle world cup alla settimana numero 8 tfew ma anche nick merks si sono fortemente e pubblicamente lamentati perché una coppia di player xx if e ronaldo nonostante siano già stati bannati da epic games nella settimana numero 2 quindi la prima settimana in cui si giocavano le world cup in coppia si sono di nuovo coalizzati con altri giocatori e quindi hanno barato ulteriormente cosa è successo ve lo spiego tfew si è incazzato di brutto e anche nick merks ovviamente ha voluto dire la sua vi voglio far vedere ragazzi lo spezzone del video perché merita davvero tanto questo qua è tfew deve essere questo guardate siamo nella partita ragazzi questo è uno spettatore davanti c'è ronaldo nella piattaforma che non è col suo compagno di squadra xx if come vedete è sulla piattaforma con altra gente questo è in partita raga eccolo qua xx if guardatelo è di fianco a un altro che si chiama doctor football che non c'entra assolutamente nulla quindi potrebbe davvero essere semplicemente un avversario ma la cosa particolare è che nonostante doctor football abbia delle armi xx if lo fa a picconate guardate ragazzi l'ha già buttato a terra e lo finisce e quindi è palese ragazzi che questa cosa essendo successa con xx if ma essendo anche successa con il suo compagno di squadra ronaldo ha creato un po di dubbi perché si tratta di free kills chiamiamole così nel senso riescono questi giocatori a giocare delle partite di qualificazione nello stesso server con altre persone che quindi si lasciano killare volontariamente ed è assolutamente una cosa disonesta non si può ovviamente fare perché il teaming non è consentito e a questo punto sia tfu sia nickmerx ma anche altri youtuber minori hanno deciso di fare proprio una vera e propria un vero e proprio esposto ufficiale ad epic games per sanzionare queste persone che sono recidive perché già lo avevano fatto nella settimana numero 2 quindi staremo a vedere ragazzi ovviamente se verranno presi dei provvedimenti disciplinari oppure no ma andiamo avanti ed eccolo qua ragazzi grandissima novità per le friday fortnite giunto già al secondo appuntamento questo venerdì ragazzi come vedete ci sarà una duo davvero di eccezione in due fanno 110 milioni di utenti iscritti ai propri canali e stiamo parlando di più di pai e ninja che timmeranno quindi giocheranno proprio in duo questo venerdì nel friday fortnite potrete seguirli su twitch potrete trovarli anche nel canale di kim star ragazzi insomma una duo assolutamente da non perdere e sicuramente ricca di divertimento voglio chiudere però ragazzi parlandovi anche del coca cola stage zero ancora non si sa niente qua in europa perché momentaneamente è esclusivo per il giappone vi lascio comunque nella descrizione il link il primo torneo ufficiale di fortnite in collaborazione con coca cola ragazzi ci saranno delle qualifiche online che vi potranno portare alla finale del 14 agosto ne riparleremo meglio nei prossimi video per adesso ve lo faccio vedere e vi lascio il link in descrizione io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi le news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi aspettiamo la patch 9.20 ciao ciao ciao